Una piccolissima premessa, un iscritto ha chiesto per quale motivo per la Juventus ho elencato solamente 5 flop mentre per le altre squadre la maggior parte La risposta è molto semplice, era un video iniziale di prova che è andato ben oltre ogni aspettativa Non avevo la minima idea di come avrei impostato il canale ai futuri contenuti Quindi per chiudere il cerchio e proseguire con le altre idee che ho oggi parleremo di tutti i giocatori che hanno fallito in maglia bianconera Buona visione La Juventus, come tutte le altre società, non è esente dall'aver commesso degli errori più o meno gravi quando si è trattato di individuare il giocatore che avesse le capacità per elevare la qualità della rosa C'è da dire che in alcuni casi i flop di questi giocatori andrebbero contestualizzati e valutati in base al periodo storico della squadra Infatti non tutti i calciatori presenti in questa categoria sono da etichettare come scarsi Anche se è indubbio che una volta vestita la maglia bianconera hanno fallito deludendo la maggior parte della tifoseria Giusto iniziare poco prima del 2000 quando nell'estate del 98 la Juventus prelevò dal Metz squadra francese Blanchard per 7 miliardi lire In precampionato sembrò stupire con un gran gol contro il Newcastle Beh, neanche pochi mesi dopo la gazzetta lo etichettò come totalmente inadeguato al calcio italiano, lento, macchinoso e timido 21 presenze tra tutte le competizioni per essere rispedito in Francia nell'estate del 99 Nella stessa stagione però il gravissimo infortunio di Alex Derpiero portò la triade ad acquistare dall'espagnol Joanne Snyder Per ben 12 miliardi di lire il 14 gennaio del 1999 Moggi dichiarò, era il nostro primo obiettivo In Italia arrivò con la fama del picchiatore grazie alle famose risse con compagni avversari sia negli spogliatoi sia in campo Le sue dichiarazioni alla prima conferenza stampa furono Finalmente qui mi sentirò un calciatore, voglio vincere la Champions Peccato che appena Ancelotti gli concesse un po' di fiducia non la ricambiò dimostrando di essere un giocatore non da Juventus Sostituire Delpiero non gli riuscì minimamente, così Carletto provò anche ad utilizzarlo come vice Zidane con pessimi risultati Neanche un gol in campionato per far sì che tutto l'ambiente non ne potesse più di lui dopo solo qualche mese Tornò in Spagna a fine stagione dove tra l'altro non fece neanche così male Su un articolo dell'applicazione OneFootball qualche tempo fa è stato individuato come uno dei giocatori meno apprezzati ad aver vestito il bianconero Nell'estate del 99 arrivò a Torino il primo portiere straniero nella storia del club, ovvero Van der Sarf Acquistato dall'Ajax per 17 miliardi di lire Rimase due annate in bianconero con prestazioni al di sotto delle aspettative Con papere e incertezze molti gli attribuiscono le colpe per la mancata vittoria di due scudetti Nel 99, sempre dall'Ajax, fu acquistato per ben 21 miliardi di lire Sanda e Holise Dopo un'esperienza fallimentare con la regione qualche anno prima, fallì anche a Torino dove fu a malapena una comparsa Solamente 8 presenze per poi volare in Germania Nell'estate del 2000 il tutto sembrò a ripetersi con l'acquisto di Fabiano Neil per 18 miliardi di lire dal Cagliari dove aveva guadagnato il soprannome di El Mago Rosso Blu Sidani in futuro dirà che è il migliore che avesse mai visto Purtroppo furono soldi non spesi bene perché non solo non riuscì a ripetersi ma smarri completamente la forma fisica Una stagione e mezza per dimostrare di avere uno stile di vita non adatto alla Juventus Finirà da giocare in una delle squadre più importanti al mondo a fare attualmente il barista dopo aver sperperato tutto il suo patrimonio A causa di come ha detto lui, cavalli lenti e donne veloci Qualche mese prima però fu individuato dal talent scout juventino Omar Sivori il terzino sinistro del Flamengo Atirson Si racconta che fu scelto al posto di Roberto Carlos Arrivò a vestire la maglia bianconera solo a febbraio del 2001 a causa di un vero e proprio scontro con la società brasiliana Che non voleva cederlo nonostante la fine del contratto Per quella vicenda la Fiat rischiò addirittura di subire un boicottaggio delle proprie auto in Brasile Esordì al delle Alpi il primo aprile del 2001 in una partita pareggiata contro il Brescia che complicò la corsa allo scudetto Da quel momento il terzino non vide praticamente più il campo Lippi lo snobbò completamente l'anno successivo convincendo Moggi a rispedirlo al Flamengo in prestito dopo solamente 5 presenze totali da quando atterrò a Torino Dal Brasile non tornò più in Italia dato che la Juventus decise perfino di rescindere il contratto nel 2003 pagando una penale di 2.300.000 euro Nell'agosto del 2001 fu acquistato Salas dalla Lazio per 25 miliardi di lire più il cartellino di Kovacevic Le aspettative della tifoseria erano altissime ma la sua esperienza in bianco-nero fu segnata dall'infortunio subito il 20 ottobre Dopo solo 12 presenze fu costretto a saltare tutta la stagione L'annata successiva non riuscì comunque a riscattarsi concludendo due annate con 4 reti in 32 partite Il famoso rigore sbagliato nel derby all'ottantasettesimo minuto sul risultato di 3-3 Finì in Argentina senza più tornare a Torino Nel 2003 venne acquistato dopo una stagione passata in prestito al Brescia il centrocampista ganese Appia Diventò uno degli insostituibili di Lippi ma non fu particolarmente apprezzato dalla tifoseria dato che in quel campionato la Juventus arrivò terza Il secondo anno invece l'arrivo di Emerson non gli permise di dimostrare molto Complice anche il suo comportamento arrogante finì per mettersi contro tutta la tifoseria dichiarando Se fossi andato al Torino mi avrebbero trattato meglio Fu quindi ceduto al Fenerbahce per la felicità dei tifosi Molte meno occasioni invece per Oliver Capo Esterno francese arrivato a costo zero si limitò a 14 presenze senza reti nell'anno per Calciopoli Chi sicuramente non ha fatto grandi cose in bianconero ma è ricordato positivamente dai tifosi Robert Kovac che nel 2005 accettò di trasferirsi a Torino Sembrò totalmente strano il nostro calcio a causa della sua lentezza Rimase anche l'annata successiva in Serie B e rientrò nella storia per aver segnato l'autogol decisivo nella prima sconfitta della Juventus nella Serie Inferiore Avvenuto ovviamente contro il Mantua Negli anni che vanno dalla retrocessione in Serie B fino all'arrivo di Agnelli si sono poi concentrati la maggior parte di coloro che hanno fallito Complici anche stagioni difficili sempre giocate al di sotto delle aspettative Boomsong, difensore francese nell'estate del 2006 ebbe il compito di sostituire Turam partito per Barcellona Deschamps lo volle a tutti i costi per rinforzare il reparto ma la sua avventura in Serie B non partì nel migliore dei modi Uno svarione regalò lo storico pareggio a Rimini nella primissima giornata di campionato Da lì concluse l'annata con 33 presenze caratterizzate da prestazioni altalenanti L'anno successivo decise di rimanere in Serie A dove dopo un primo periodo fermo a causa di un infortunio riuscì a diventare protagonista in negativo in Coppa Italia nella sfida dove l'Empoli segnò tre reti a Torino Poco dopo per disperazione fu venduto a Lione per 3 milioni di euro C'è da dire che l'estate del 2007 risultò essere un disastro per quanto riguarda il calciomercato L'acquisto più costoso e fallimentare del quale abbiamo già parlato nel vecchio video è quello di Tiago ma ovviamente non fu l'unico Meritevole di rientrare in questa categoria infatti è sicuramente Sergio Almiron arrivò dopo una stagione fantastica con l'Empoli per 9 milioni di euro sottoscrivendo un contratto quinquennale doveva essere una pedina fondamentale per Ranieri ma non andò così il suo atteggiamento timoroso durante la presentazione lo ripropose anche in campo collezionò solamente 9 presenze finendo per essere messo subito da parte da lì iniziò a vagabondare in prestito per essere ceduto al Catania per soli 400 mila euro nel 2011 sempre nel 2007 arrivò anche Griegeran non molto amato dalla tifoseria per i suoi svarioni in difesa e il mitico centrale di difesa Andrade è pagato 10 milioni di euro difficilissimo giudicarlo anche per i tifosi il 23 settembre si infortunò gravemente ad un ginocchio che lo costrinse a stare lontano dal campo per tutta la stagione quella successiva invece non arrivò neanche ad agosto infatti durante la preparazione subì la frattura della rotola sinistra finendo per rescindere il contratto nell'aprile del 2009 10 milioni per 4 presenze in maglia bianconera l'acquisto più oneroso nel 2008 invece fu quello di Amauri dal Palermo giocatore che tuttora divide la tifoseria sicuramente i numeri non sono dalla sua parte dal 2009 in poi la gioia più grande che ha regalato ai tifosi juventini è stato il gol segnato con la maglia della viola nel 2012 nella gara contro il Milan che ha facilitato la conquista del primo scudetto dell'era Conte ma nella stessa estate sicuramente l'acquisto meno apprezzato dalla tifoseria fu quello di Christian Polsen il motivo fu semplice in quella sessione si doveva ricostruire il centrocampo e il nome che veniva accostato ai bianconeri era quello di un certo Xabi Alonso che però non arrivò mai a Torino perché la scelta fu quella di puntare sul danese ancora oggi ad anni di distanza sia l'ex presidente Blanc che Ranieri si scaricano la colpa di quella scelta Claudio spiegò Blanc venne da me a chiedermi chi preferissi e io dissi per 20 volte Alonso ma nei giorni successivi mi fece capire che non c'erano abbastanza soldi per lo spagnolo l'ex presidente invece in un'intervista dichiarò avevamo due strade erano stati trovati accordi con entrambi i giocatori non volendo imporre la nostra scelta a Ranieri gli abbiamo chiesto di scegliere fu lui a decidere per Polsen il danese arrivò per quasi 10 milioni di euro accolto da una tifoseria contraria all'acquisto Tutto Sport titolò purtroppo Polsen e non si sbagliò più di tanto in maglia bianconera non convinse nonostante riuscì a collezionare in due anni 60 presenze rientra di diritto a far parte di uno dei centrocampi più deludenti della storia bianconera in quell'annata è giusto citare anche gli arrivi del non proprio roccioso Melberg il ritorno di De Ceglia e di Echtal che giocò solamente tre partite se la stagione 2008-2009 fu tragica per quanto riguarda il calciomercato lo fu ancora di più quella successiva la Juventus decise di investire parecchio e non lo fece nel migliore dei modi l'acquisto più oneroso che si rivelò sbagliato fu quello di Diego una parte della tifoseria lo ricorda come un buon giocatore nel contesto sbagliato altri invece lo considerano tuttora un giocatore non da Juventus dopo un solo anno una delle prime mosse di Marotta fu quello di cederlo a titolo definitivo al Vosburg ma l'acquisto per la stessa cifra che non lasciò dubbi a nessuno fu quello di Felipe Melo per 25 milioni di euro dalla Fiorentina la tifoseria viola lo ricoprì di insulti per essere passato al nemico insulti che però non durarono molto perché le sue prestazioni insieme a quelle della squadra furono da brividi in campo pochissima qualità e tanto nervosismo che lo portarono a diventare uno dei giocatori più odiati dai supporter bianconeri presente in entrambe le annate che videro la Juventus posizionarsi al settimo posto venne spedito in Turchia la prima occasione utile degno di nota allo stesso anno l'arrivo di Fabio Grosso per 2 milioni di euro in tre anni non portò onore al numero 6 che indossava Shirea dopo un primo anno giocando al di sotto delle aspettative nel 2010 venne inizialmente messo fuori rosa per poi essere richiamato in campo nonostante la contrarietà di qualche dirigente rimase anche l'annata del primo scudetto delle raconte e giocò due partite non venendo considerato dal tecnico vinse lo scudetto ma fu l'unico giocatore non partecipare alla cerimonia di premiazione l'arrivo di Marotta nel 2010 cambierà completamente la Juventus ma c'è da dire che nel suo primo anno qualche errore lo commise pure lui se Krasic la freccia serba verrà rimpiato da qualche tifoso dopo un primo anno dove sarà uno dei pochi giocatori a salvarsi e un secondo nel quale non venne visto proprio di buon occhio da Conte Jorge Martinez acquistato dal Catania per 12 milioni invece rientra tra i più grandi errori commessi da Beppe due terzini sempre nel 2010 non riuscirono a fare grandi cose uno di questi è Sorensen e l'altro Marco Motta quest'ultimo arrivato in prestito e riscattato nel 2011 per quasi 4 milioni di euro rimase sotto contratto con la Juventus fino a gennaio del 2015 non convincendo nella dirigenza e nella tifoseria fu girato in prestito al Catania, Bologna e Genoa senza grandi risultati nell'estate del 2011 nonostante le operazioni di calcio mercato andranno nettamente meglio ci sono due giocatori meritevoli di rientrare in questa lista uno di questi è Elia ala olandese fortemente voluto da Marotta e pagato 9 milioni di euro Conte gli regalò moltissime panchine e anche qualche tribuna in un anno solamente 4 presenze deludendo tutto l'ambiente chi riuscì a fare ancora meglio però fu Ziegler che dopo ottime annate alla Samp firmò a parametro zero per la Juventus beh non indosserà praticamente mai la maglia in competizioni ufficiali il 3 settembre infatti venne subito girato in prestito fino al 2014 quando lui stesso riscattò il suo cartellino nell'estate 2012 invece il giocatore più costoso che deluse le aspettative fu Isla doveva andare ad alzare la qualità della fascia destra nel 3-5-2 ma ovviamente non vi riuscì Conte cercò di far valere l'investimento ma non ci fu verso complici gli infortuni e la presenza di Licksteiner che si rivelò sempre superiore 47 presenze in due anni e un'esperienza in Inghilterra in prestito per fargli dichiarare nel 2015 Juve non sono alla tua altezza nella stessa stagione oltre all'incredibile colpo Pogba a zero altri arrivi a basso costo non diedero risultati sperati sono ben 3 i giocatori che fallirono abbastanza clamorosamente il primo fu Lucio che dopo annate magiche nero-azzurro tutti pensavano venisse a prendersi il posto da titolare a Torino anche in questo caso non andò così Conte infatti non vedendolo di buon occhio lo fece giocare pochissimo nelle uniche occasioni che gli furono concesse non sembrò essere il giocatore che aveva vinto il triplete solamente a dicembre è rescisso il contratto con 4 presenze all'attivo il secondo fu Bentner arrivato in prestito con diritto di riscatto era l'attaccante che avrebbe dovuto stupire ma arrivò a Torino con un girocollo di dubbio gusto e qualche chilo in più due infortuni, unici presenze, zero reti per diventare uno dei peggiori attaccanti ad aver vestito la maglia bianconera e vinto uno scudetto i momenti salienti della sua carriera in Italia sappiamo tutti quali sono Chi invece riuscì a fare ancora meno fu Annel Cup arrivato a gennaio del 2013 a parametro zero riuscì nell'impresa di cucirsi uno scudetto al petto con tre presenze e solamente 45 minuti giocati in metà stagione ancora oggi lui stesso dice di vergognarsi di quel trasferimento nell'estate del 2013 l'acquisto più costoso a fallire per la tifoseria fu ovviamente quello di Angelo Gbonna pagato 13 milioni dal Torino dove tra l'altro era cresciuto e diventato capitano due stagioni in maglia bianconera senza mai esplodere sia per chi aveva davanti sia per la poca sicurezza che dava quando giocava fu ceduto al West Ham senza grossi rimpianti chi invece incise ancora meno fu Romulo arrivato in prestito dopo una stagione fantastica all'Ellas complici anche gli infortuni chiuderà l'annata con solamente quattro presenze dimostrò in pochissimo tempo di non essere un giocatore da Juventus un brasiliano invece arrivò a sorpresa nel 2015 per 11 milioni e fu Hernanes l'Inter riuscì a sbarazzarsi di lui mandandolo a Torino dove i tifosi non gli diedero tregua complici le non brillanti prestazioni di tutto l'ambiente dopo poco tempo sperò nella sua cessione rivolgendogli parole non proprio d'amore quando tra l'altro la rifiutò nell'estate del 2016 due anni a Torino con 35 presenze e due reti per diventare uno dei giocatori meno apprezzati di sempre insomma questi calciatori sono solo alcuni che una volta indossata la maglia bianconera hanno deluso le aspettative ed è indubbio che ce ne saranno altri quindi la domanda che ci dobbiamo porre è molto semplice chi sarà il prossimo che verrà accostato a giocatori del calibro di Hernanes e Snyder nella classifica dei peggiori flop della storia della Juventus